La vittoria del Marocco, tutti in piazza a festeggiare, quali sono le tue emozioni? È un'emozione grandissima, grandissima, sono troppo felice, me l'aspettavo, sapevo, c'è il Marocco del cuore, vaga dai! Viere d'Italia, corso Umberto in festa, tutto uno sventolare di bandiere e suoni di claxon, molte le famiglie, le giovani e i giovani magrebini che insieme alle bambine e bambini si sono riversati sulle strade, il sorriso, la gioia per la squadra di calcio, le emozioni di Dalila, 19 anni, che a Caltanissetta vive con la sua famiglia, un grande sorriso, gli occhi pieni di emozione. Sono molte le ragazze presenti, chi indossa il velo, chi no, ma sono unite ed in festa, molte hanno sul volto la bandiera del Marocco ed insieme ad amiche, amici e fratelli, padri e madri condividono il momento. Il più piccolo tra i bambini sulle scale della chiesa di Sant'Agata ci mostra fiero lo stema della sua squadra del cuore, mentre la sorellina indossa la bandiera sulle spalle come un mantello. La storia il Marocco la scrive anche così, non solo per i risultati calcistici, ma anche per quelli multiculturali, in una città dell'estremo sud come Caltanissetta, dove il percorso è ancora in salita, ma è fatto di sorrisi e occhi pieni di gioia.